Buonasera a tutti, questa sera per mostrare cosa facciamo poco prima di una consegna di nostri gadget personalizzati. Nello specifico stiamo confezionando delle media click della BIC. La media click è una penna bellissima come potete vedere, design esclusivo, personalizzabile sia nel fusto, nella clip che nel pulsante, oltre che scegliere il refill blu o nero. Nel caso specifico, il nostro importante cliente, la Macchelli Group, una nota società immobiliare importante della zona, ci ha commissionato appunto delle penne BIC e degli accendini personalizzati. Le stiamo, come vedete, inserendo nel proprio cartoncino. Adesso ne abbiamo qua solo una parte in quanto l'ordine è di 4.000 pezzi e sono suddivisi in 8 cartoni da 500 pezzi. Questo è un cartone da 500 pezzi. Le mettiamo via per bene, in maniera perfetta e uniforme, anche perché secondo noi aprire una scatola di articoli personalizzati e trovarla in disordine dove sopra c'è il proprio logo non è una cosa piacente. Quindi anche la presentazione ha la sua importanza. Il cliente ha fatto due tipi di colori, utilizzando la stampa uguale, ma cambiando il colore della clip sopra, più chiaro rispetto a quelle. Perché? Per identificarle, per il fatto che hanno dei colori d'inchiostro diversi. Più chiaro blu, più scuro nero. Anche in questo caso inseriamo le penne finali del cartone e siamo pronti per la consegna. Faccio una breve parentesi per mostrare gli accendini. Anche gli accendini ce n'è una minima parte, in quanto sono già stati confessionati, sono stati realizzati per un migliaio in due versioni. Il classico accendino a pietra rotazione e il vulcano elettronico antivento. Anche questi personalizzati con il proprio marchio della McKellie Group, ad un colore. E devo dire nel tempo che abbiamo dei dati importanti che rispondono a tante domande. Ad esempio, molte aziende ci chiedono ma facendo dei gadget chissà che riscontro posso avere. Nel tempo la risposta è a un riscontro positivo perché chi utilizza tanti gadget ha tanto successo perché fidelizza di più, ha degli ordini più profondi e veicola il marchio in maniera fantastica.